a tutti abbiamo un po' di tempo per collegarsi e vediamo che sia tutto a posto vediamo un po' intanto che apro la chat così vi seguo allora sì, la pubblica ok buonasera allora, volete il giro largo o volete il giro corto? vediamo un po' buonasera a tutti il giro largo, ok decidetevi, largo o corto? corto, corto mezza via giro largo, giro largo, largo, ok facciamo largo facciamo un bel recap insomma, vediamo diamo un attimo a tutti per collegarsi ah, io reggo siete voi che dovete reggere è un discorso un po' un po' complicato ma se dobbiamo partire dall'inizio vediamo un po' allora, intanto mettiamo su il primo step perché è abbastanza complicato condividi apriamo e cominciamo da lui cominciamo da questo signore allora velocemente, eh poi si va molto velocemente verso gli anni 90 quelli che insomma che ci interessano su internet troverete tantissimi video dove parlano delle dottrine delle dottrine russe o sovietiche di solito tutti parlano di Tukhaceski questo perché sono dei sedicenti esperti e quindi parlano di Tukhaceski perché conoscono solo lui perché è quello più prominente quindi quando vedete qualcuno che parla di dottrine russe della seconda guerra mondiale le cita Tukhaceski sapete già che ha letto Wikipedia e tanto è in realtà la storia è un po' più complicata come al solito allora cominciamo col dire questo che le dottrine della guerra in profondità cioè la Globokai Operazia non nascono né muoiono con Tukhaceski ok diciamo che è il nome più prominente che viene fuori e quindi di solito si tende a parlare di quello un po' più vocale degli altri no? diciamo in questo senso qui e quindi siccome Tukhaceski era anche abbastanza megalomane ed era anche bravo a vendersi alla fine è passato il messaggio che le sue teorie sono quelle che poi hanno determinato molto sulle teorie sovietiche in realtà se ci pensiamo l'unica campagna che lui ha organizzato in diretto cioè quella dell'invasione della Polonia negli anni 20 è fallita spettacolarmente alle porte di Varsavia quindi non proprio un campione sul campo diciamo quindi prenderei Tukhaceski un po' con le molle diciamo il vero padre invece è questo signore qui che pochissimi citano ovvero Vladimir Triandafilov ok? che ha partecipato alla prima guerra mondiale alla rivoluzione russa ok? e poi viene gli viene consentito di studiare nell'Accademia Militare dell'Armata Rossa no? e fra l'altro ha partecipato anche delle battaglie tipo quella di Perekop contro i russi bianchi nel 1921 ora diciamo che dopo che lui ha terminato gli studi tra l'altro nell'Accademia di Frunze che è stata anche riportata ultimamente in auge proprio in diciamo in un'ottica putiniana di far riemergere vecchie glorie diciamo stizzando un pochino l'occhio al passato lui praticamente è il corrispettivo di Hans Fonsec Hans Fonsec per la Reichsberg ok? cioè quello che ha codificato le prime teorie per quanto riguarda i russi negli anni 30 quindi è molto interessante perché tutto il lavoro che poi verrà fatto dagli altri è tutto derivato da lui quindi è molto basilare diciamo per quanto riguarda le dottrine russe fra l'altro c'è il suo libro che io consiglio sempre che è questo Nature of the Operations of Modern Armies scritto da Triandafilov che è praticamente alla base di tutta la dottrina meccanizzata russa passo più veloce purtroppo finirà finirà male perché sia lui che Bronislavovic Kalinowski che era un altro che si occupava della meccanizzazione dell'esercito russo moriranno in un incidente aereo su su questo aereo qui cioè un Ant 2 questo è Bor Konstantin Bronislavovic Kalinowski un altro dei padri della meccanizzazione russa moriranno in questo incidente e quindi a loro subentrerà Tukhachesky quindi diciamo che Tukhachesky subentra per assenza degli altri ok e non tanto per meriti c'era rimasto lui come teorico poi era uno insomma bello arrogantello bello bello convinto di sé e quindi riprenderà i lavori degli altri e ovviamente diventerà quello più famoso e di questi insomma in occidente quasi non non si sa nulla quindi se dobbiamo passare questo giusto per mettere i puntini sullo i per quanto riguarda le cose vecchie diciamo una nota curiosa il cugino di Triandafilov Stilian che era direttore dell'Anchevede fu deportato in Siberia e ucciso durante la repressione staliniana ok quindi insomma non finiscono mai bene ora veniamo agli anni 90 velocemente un bel saltone tanto della guerra fredda non ci interessa perché è una guerra abbastanza classica quasi non combattuta parte le proxy war diciamo questo è il nostro caro amico Tuka giusto per completezza c'è anche lui finirà male finirà purgato passiamo agli anni 90 intanto metto Gerasimov tanto per per tenercelo da sfondo però in realtà dobbiamo fare un un recap veniamo agli anni 90 con la dissoluzione del dell'Unione Sovietica i russi in realtà all'inizio pensavano di poter fare una specie di esercito diciamo unificato con i paesi che sarebbero comunque rimasti nell'orbita russa e quindi pensavano di poter fare una specie di mini esercito diciamo del patto di Varsavia poi invece si rendono conto che ogni paese voleva farsi l'esercito per conto suo e che non c'erano molti spazi per collaborare e quindi cominciano a definire una nuova dottrina ok da notare che quasi tutte le dottrine russe sono strettamente legate a un livello politico e strategico più che a un livello operazionale come quelle occidentali quindi è molto differente è codificata proprio in un modo diverso allora la dottrina militare russa di solito si definisce scusate abbasso il cellulare come un insieme di direttive statali ufficialmente codificate che servono per preparare l'esercito e il paese quindi si tratta proprio di un codice scritto che riguarda più la gestione del paese e delle forze armate come un unicum come se fosse un prolungamento diciamo dell'apparato politico quindi non è una cosa separata che è abbastanza interessante come come cosa quindi cominciamo col dire questo allora le prime dottrine che vengono fatte negli anni 90 praticamente vengono fatte in questo modo qui ovvero si codificano le esigenze delle forze armate nel campo del personale e delle attrezzature e in secondo luogo si parlava che bisogna decidere che tipo di conflitti armati l'esercito diciamo della nuova federazione russa si avrebbe dovuto occuparsi e in questo caso era il periodo del diciamo delle prime resistenze quindi si parla della prima guerra cecena e di cose del genere e quindi diciamo che i russi cominciarono a sviluppare praticamente una dottrina per occuparsi anche di guerre ibride ci arriviamo a Makarov perché prima bisogna spiegare come si arriva a Makarov il periodo 90 2000 diciamo quindi diciamo che l'esigenza della guerra cecena ha fatto capire che i russi non non erano pronti avevano un esercito che ovviamente stava in piedi con poco e non erano in grado di affrontare il problema ceceno infatti nella prima guerra cecena i russi avranno dei problemi enormi truppe di coscritti è un tipo di guerra già abbastanza simmetrico i ceceni comunque facevano abbastanza guerriglia le perdite erano anche abbastanza alte ovviamente la Russia usciva anche da un periodo tremendo siamo a metà degli anni 90 e quindi aveva un esercito che non era molto abituato a fare quel tipo di quel tipo di guerra e quindi cominciarono a codificare un nuovo tipo di strategia no che è interessante perché si adattano a quello che succede quindi veniamo a questo negli anni 90 mi sono mi sono scritto un po' di cose negli anni 90 lo sviluppo dottrinale ha portato avanti questa direzione politica assertiva delle dottrine assumendo un ruolo sempre più marcatamente aggressivo con intenti chiari come quello del diritto di proteggere le minoranze russe e questo ci interessa perché come vedremo il discorso del diritto di proteggere le minoranze russe anche in altri stati e se necessario utilizzando la forza in realtà è scritto nelle loro dottrine fin dalla metà degli anni 90 e quindi fra l'altro in queste dottrine ritorna anche il discorso di termini come avversari o nemici e il dispiegamento delle forze armate della federazione al di fuori del territorio russo inoltre è riapparsa in maniera preponderante la percezione della minaccia dell'occidente che invece era scomparsa dalle dottrine diciamo paradossalmente perché se uno va a vedere le dottrine sovietiche fra l'80 e il 90 erano delle dottrine molto più di carattere difensivo e quindi si tendeva più che altro a non usare una terminologia così marcatamente ostile verso l'occidente ora questa dottrina qui viene ulteriormente sviluppata nell'era Putin e qui vedremo tutti i vari tutti i vari passaggi di come questa viene ratificata e di come cambia anche a seconda dei conflitti che ovviamente la modificheranno nel tempo io se volete qui mi fermo un attimo e rispondo a qualche domanda per non essere troppo pedante diciamo perché questa è una lezione abbastanza soda insomma le dottrine insomma sono abbastanza pesanti e macinarsi due ore di dottrine non è facile quindi lo intervalliamo con dei pezzi in cui rispondo e lo dico sempre così se uno si vuole sorbire solo le dottrine salta i pezzi dove io rispondo e segui solo quello insomma sì quindi negli anni fino agli anni 90 cioè prima della caduta dell'Unione Sovietica le dottrine erano marcatamente difensive probabilmente perché in un'epoca fra gli 80 e 90 l'Unione Sovietica si era reso conto che non era in grado né di avere un potenziale di diciamo capacità di proiezione di potenza era chiaramente in affanno e quindi tutte le dottrine degli anni 80 e 90 erano più che altro state codificate per mantenere quello che avevano mentre dal 90 in poi si vedrà con la progressione del diciamo del inasprimento dei rapporti con la Nato e ci arriveremo sui vari passaggi sul perché le dottrine russe cominciano a diventare sempre più marcatamente ostili anche il linguaggio proprio quindi abbastanza interessante sì siccome le dottrine russe Alex chiede come mai le dottrine russe hanno in qualche modo influenzato le politiche del 2014-2022 le dottrine russe non sono prettamente militari sono praticamente un'emanazione dello Stato proprio a livello socio-politico oltre che strategico quindi riflettono molto la politica internazionale ok più che a livello operativo sono proprio strategie per la politica internazionale e quindi vedremo che il linguaggio e la strategia russa cambia mano a mano a che i rapporti con l'occidente peggiorano ok quindi è abbastanza interessante vedere come tutto cambia e vedremo i passaggi di questo cambiamento fino ad arrivare a Gerasimov che anche questo è un malinteso perché Gerasimov tutti parlano di Gerasimov ma in realtà questo poveraccio c'entra poco diciamo è più un ci arriveremo sul motivo del perché si parla di di Gerasimov ok siccome chiedono che cos'è una dottrina una dottrina praticamente racchiude tutti i i modi operativi di un esercito quindi a livello tattico a livello operativo a livello di pensiero non riguarda tanto la la strategia in sé ma più che altro tutta una serie di regole che vanno a codificare il comportamento dei militari delle forze armate all'interno poi di una strategia ma la dottrina in sé non è necessariamente strategica può anche semplicemente essere un discorso di come ci si muove come si decide di operare allora esistono libri di tattiche militari moderni sì e all'interno di questa live vi consiglierò anche dei libri diciamo quindi sarà molto educativo speriamo allora cominciamo con dire questo e ritorno alle dottrine così intervallo un po' di risposte un po' di è un po' di studio diciamo allora la dottrina che viene sviluppata nell'epoca Putin quindi parliamo dal 2000 al 2010 menzionava una serie di fattori destabilizzanti estremisti nazionalisti etnici religiosi separatisti e terroristi indebolimento del sistema diciamo di sicurezza internazionale e denunciava un illegale applicazione della forza militare da parte della Nato con il pretesto dell'intervento umanitario legacy Iraq Libia Siria eccetera eccetera Afghanistan eccetera quindi la dottrina che viene codificata fra il 1999 e il 2008 pone particolare attenzione ai conflitti interni e quindi alla guerra simmetrica con particolare enfasi riguardo delle operazioni riguardanti i conflitti ceceni del 1994 e 1996 e quelli del 1999 2010 in realtà è finito nel 2006 però diciamo ufficialmente il secondo conflitto cecene finisce nel 2010 questi conflitti erano esempi di problemi interni e di fattori destabilizzanti elencati come separatismo e terrorismo estremista nazionale etnico e religioso questo è interessante per quanto riguarda i fattori esterni la dottrina russa parla molto di fattori destabilizzanti con riferimento alla politica di sicurezza occidentale e questo ci riguarda ovvero l'uso della forza da parte della Nato nell'ex Yugoslavia quindi parliamo di Bosnia e Kosovo questa è vista soprattutto dai russi e scritto nella dottrina come un esempio particolarmente chiaro della sua politica e dell'intenzione di ignorare la Russia che invece rivendica un ruolo decisivo in Europa quindi vediamo che anche quello che veniva scritto all'epoca insomma ci riguarda grandemente allora questo è interessante per far capire come la Russia in realtà vive molto male la Nato ma vive molto meglio le Nazioni Unite e ovviamente il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite perché? perché alte preoccupazioni erano il nuovo concetto strategico della Nato dell'aprile 1999 e il suo allargamento con nuovi stati membri ad est e qui sorge il problema di Polonia Slovacchia eccetera che entrano nella Nato adiacente ai confini della Russia la dottrina respinta il ruolo di primo piano di altre istituzioni nella politica internazionale diverse dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite perché? perché nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite la Russia ha diritto di veto quindi secondo il pensiero russo è un punto cruciale perché nella Nato hanno diritto di veto e quindi possono bloccare diciamo una risoluzione sgradita alla Russia mentre nella Nato sarebbero soggetti alle politiche della Nato stessa quindi a guido americano cioè conterebbero poco e quindi per loro la politica internazionale deve girare intorno alla Nato e al Consiglio di Sicurezza e alla Nato all'ONU e al Consiglio di Sicurezza e non alla Nato quindi la dottrina esprimeva inequivocabilmente che sia i ceceni quindi problemi interni e l'Occidente quindi problemi esterni dovevano essere considerati come di aggressori notare come si incominciano ad utilizzare delle terminologie molto aggressive e che essi dovevano rendersi conto che con la Russia non si scherza parole russe non ricordo tutto quello che dico non sono opinioni mie sono dottrine russe ok quindi venendo alle dottrine malamente attribuite a Grasimov e questo è il motivo della foto prima dobbiamo chiarire il malinteso per questo che in giro ci sono un sacco di articoli giornalisti dove tutti parlano di Grasimov perché ovviamente ne sanno poco questa cosa fa abbastanza notizia che sembra chissà che soprattutto se lo colleghi adesso siccome è il capo di Stato Maggiore allora diciamo tutta l'operazione tutta la malignità è opera di Grasimov in realtà ce lo spiega l'autore stesso del motivo del perché si chiama Grasimov sì la prossima live sarà con la mappa la faremo probabilmente o sabato o domenica anche perché non sta succedendo molto in questi giorni a livello di aggiornamenti del fronte diciamo quindi raccontiamo il perché tutti parlano di Grasimov e perché c'è questo malinteso e ve lo dico con le parole dell'autore cioè Mark Galeotti allora venendo le dottrine malamente attribuite a Grasimov prima di manchiarire il malinteso Mark Galeotti è quello che lo ha creato ed è anche quello che ci spiega del perché lui diciamo Grasimov non c'entra molto allora lui ci dice che ovunque troverai studiosi esperti e politici che parlano della minaccia della dottrina Grasimov dal nome del capo di stato maggiore russo ovvero un nuovo modo di fare la guerra questa lui ha scritto anche uno script diciamo che si chiama una teoria ampliata della guerra moderna o anche una visione della guerra totale c'è un piccolo problema tutto questo non esiste ok e lui dice sento di poterlo dire perché con il mio immenso dispiacere ho creato questo termine che da allora ha acquisito una propria vita distruttiva arrancando goffamente nel mondo per diffondere paura e disgusto sulla sua scia il fatto è questo che nel febbraio 2013 il quotidiano russo militare industrial carrier per quanto possa sembrare eccitante e molto letto ha ristampato un discorso del generale Valerio Gerasimov dove esso parla di come nel mondo moderno l'uso della propaganda e della sovversione significhi che uno stato perfettamente fiorente può nel giro dei mesi e persino giorni trasformarsi in un feroce conflitto armato e quindi diventare vittima di un intervento straniero sprofondando nel caos nella catastrofe umanitaria e nella guerra civile il che suona tutto molto sinistro visto che questo succede nel febbraio 2013 il fatto è che nel 2014 cosa succede? compaiono gli omini verdi in Crimea e quindi per un semplice collegamento di causa-effetto è sembrato tutto da manuale ok? però non c'entra nulla intanto perché non è una dottrina era un discorso e quindi c'entrava veramente poco qui mi chiedo se mi sentivo a mio agio a discutere con il Faina non credo che ci puoi discutere quindi un po' difficile e quindi diciamo quello che dice Gerasimov sembra era più un discorso poi è stato estrapolato è successo quello che è successo in Crimea e quindi a questo signore viene attribuito il tutto invece non è così la dottrina che viene attribuita a Gerasimov in realtà ha molti padri e quindi dobbiamo fare un passo indietro intanto per dire un paio di cose i russi non sono i soli ad aver codificato i principi della guerra ibrida in realtà ci sono tantissimi studi inglesi americani eccetera non voglio andare troppo indietro quindi parlare di Lawrence d'Arabia Lidl Hart Fuller diciamo che rimaniamo sugli anni 2000 e su per esempio un libro che io consiglio è quello del maggiore statunitense William J. Nemeth Future War and Cecenia dove lui ipotizzava diciamo una probabile situazione di guerra ibrida che è interessante che si sarebbe dovuta venuta a creare durante la guerra Cecena e poi anche dopo dopo di lui molti hanno cominciato diciamo a interessarsi specialmente dopo l'evolversi della situazione in Donbass e in Crimea quindi uno scritto che io vi consiglio è Thoughts on Hybrid Conflict di Russell Glenn tra l'altro io questi libri li ho messi in libreria quindi se li volete voi li potete anche scaricare che poi è basato sugli studi precedenti di Hoffman ovvero Employing US Information cioè United States Information Operation Against Hybrid Warfare del colonnello Barbridge e c'è anche questo quindi se lo volete poi metterò i dettagli sotto così li trovate li trovate bene questo per dire che non solo i russi hanno avuto questo tipo di intuizione sulla guerra ibrida ora mi fermo un attimo rispondo a qualche domanda perché poi si passa la seconda frase ovvero i veri padri che sono Makarov Primakov Mahmoud Garev e Splinchenko ancora prima che Gerasimov quindi vediamo se facciamo vedere anche anche questo non va ma questo è Makarov ecco questo è un libro che vi consiglio vediamo un pochino questo è il primo libro dove si parla un pochino della guerra diciamo assimetrica che è molto interessante non so se vi ho fatto vedere anche il video di Triandaffilo che è anche quello The Nature of Operations anche questo se volete proprio cominciare con la roba rossa cominciate con questo ci sono degli ottimi libri di Glanz che parlano di un po' tutta la storia delle dottrine sovietiche dal 1900 in su diciamo fino a oggi queste dottrine potrebbero rivelarci qualcosa per i futuri di questa guerra in Ukraine assolutamente sì perché spiega molto l'impreparazione russa perché si erano preparati per un tipo di guerra che non stanno facendo e qui si arriva fra il discorso delle dottrine e la riforma che è avvenuta all'interno dell'esercito perché un esercito si riforma in base alla dottrina cioè al metodo di impiego e qui si viene al perché i russi hanno fatto questo sistema di brigate nel 2008 fino al 2016 oggi è basato su un sistema di brigate e armi combinate diciamo armate combinate mentre prima era più basato su un sistema divisionale perché perché in Cecenia il vecchio sistema divisionale non funzionava era molto imperniato su grosse unità che non erano flessibili che avevano grossissimi problemi ad affrontare la guerriglia urbana e infatti i russi come affrontarono il problema di Grozny semplicemente la radono al suolo perché le truppe ebbero delle perdite enorme in proporzione alla guerra e a chi combattevano insomma erano i Ceceni non era un esercito particolarmente dotato di mezzi quindi è per questo che ci riguarda perché oggi i russi hanno un esercito basato su brigade basato su delle dottrine che teoricamente sono più adatte ad una guerra asimmetrica questo anche perché hanno guardato quello che noi abbiamo fatto cioè in occidente Libia Afghanistan Iraq eccetera dove eserciti classici hanno faticato e quindi hanno creato un esercito adattato ai problemi interni Cecenia non scordiamoci il problema dell'Ossetia dell'Abkhazia dove lì facevano un tipo di guerra molto molto asimmetrica nelle gole tra le montagne eccetera e quindi i russi si sono adattati a quello che stava succedendo nel mondo mentre ora fanno un tipo di guerra classica il problema è che hanno impostato tutte le dottrine e tutto l'esercito per un tipo di guerra completamente opposto a quello che si sono ritrovati a fare in Ucraina e questo è il motivo del perché queste dottrine queste riforme sono importanti e ci riguardano sia dal punto di vista politico e geostrategico perché fa vedere come anche le dottrine di un esercito cambiano in base alla politica internazionale e del perché un esercito magari anche dotato di ottimi mezzi può fallire sul campo perché la dottrina che applicano è completamente sbagliata alla realtà del campo in cui deve operare guerra ibrida e guerra simetrica quali differenze? beh sono sillogismi in realtà nel senso guerra ibrida è una guerra che guerra cecena è abbastanza ibrida nel senso che all'inizio i ceceni hanno un esercito abbastanza regolare da poter combattere in modo abbastanza classico quando le prendono in campo aperto dai russi allora cominciano a fare una guerra di tipo asimmetrica cioè più di agguato eccetera se uno vuole cominciare con le basi della guerra asimmetrica si legga le teorie di Fuller di Hart o addirittura di Lorenz d'Arabia che quando guidava gli arabi beh faceva un tipo di guerra asimmetrica cioè non cercava lo scontro diretto con l'esercito turco li andava a colpire dove erano più deboli per indebolirli che è uno dei primi esempi ma si può andare ancora più indietro insomma su quel tipo di guerra è diciamo una terminologia che si può applicare a posteriori a molte cose ora si tenta di codificarla per avere un approccio un po' più scientifico sulla faccenda militare della questione è purtroppo che le dottrine non si possono adattare al teatro di guerra perché ci vuole tanto tempo per riformare un esercito a un modus operandi che tu non hai non hai previsto sia dal punto di vista delle formazioni i russi nella seconda guerra mondiale cambieranno sistema ad esempio organizzativo 4 o 5 volte con danni enormi perché quando cambiavi un sistema ne passavi a un altro e cambiavi proprio tutta l'impostazione dell'esercito in corso d'opera in guerra beh avevi dei grossi danni a livello organizzativo e quindi ci voleva tempo per ingranare quindi è un po' difficile insomma farlo in corso d'opera di solito si spende molto per farlo anche perché di solito queste cose cioè le dottrine non cambiano così radicalmente tipo la dottrina autorizzata dai tedeschi è stata codificata negli anni negli anni 20 è andata avanti fino agli anni 30 agli anni 40 per dire quindi la dottrina russa della guerra in profondità è stata modificata nel tempo ma meno male ha resistito dagli anni 40 agli anni 80 praticamente quindi non è una cosa che puoi fare del tipo oh i russi ora si rendono conto che hanno impostato un esercito su un tipo di guerra simmetrica o ibrida e improvvisamente e ora si trovano a fare una guerra classica e quindi nel giro di due settimane cambiano impostazione non ce la fanno anche perché dottrine significa anche aver fatto addestrare le truppe in un certo modo con certe pratiche e quindi non è una cosa che dici ah domani cambiamo idea ritorniamo al sistema divisionale magari quelle truppe non si sono mai mosse in un sistema divisionale e quindi non sanno nemmeno come agire poi c'è tutto un discorso di quadri di comando cioè rifare tutto l'ordine di un'armata con tutti i vari comandi su un sistema completamente differente beh crea dei danni enormi questo potete anche per chi si ricorda le cose italiane la riforma Pariani ha creato dei danni enormi all'esercito italiano potrebbe esistere una doppia dottrina il problema è che devi addestrare le truppe a entrambe quindi secondo me o addestri un certo gruppo di truppe per fare quello che è un pochino quello che fa l'America nel senso hanno l'esercito più regolare che si occupa un pochino cioè quelli di coscriti quelli un po' più bassi quelli che fanno diciamo il turno in Iraq o cose del genere fanno un tipo di dottrina più classica mentre le truppe speciali come possono essere i Navy Seals i Delta sono più addestrati a un tipo di dottrina diciamo per operare in ambienti asimmetrici quindi hai le truppe speciali perché è il tipo più difficile di guerra che puoi fare è quella asimmetrica perché asimmetrica significa combattere contro persone che non ti affrontano vis-à-vis sul campo ma ti fanno agguati ti attaccano di notte un pochino come fanno i talebani un po' come fa l'Isis cose del genere quindi tu hai bisogno di truppe estremamente addestrate estremamente capaci anche di muovere sul territorio con una buona intelligence questo non lo puoi applicare a tutto l'esercito perché non tutto l'esercito ha questo tipo di educazione anche o anche diciamo addestramento pregresso per potersi adattare questo tipo di guerra cioè non puoi prendere un militare di leva anche americano che si fa non so non so quanto fanno un anno 8 mesi 18 mesi una roba del genere e improvvisamente diventa un esperto di guerra asimmetrica solo perché gli hai dato un fucile in mano e un po' di equipaggiamento ci vuole esperienza anche perché un tipo di guerra è estremamente pesante per chi la subisce perché vivi sempre con la costante paura con l'adrenalina addosso le famose vittime causate dall'esercito americano in Iraq era proprio perché veniva usato molto esercito regolare in una guerra asimmetrica e quindi sparavano su qualsiasi cosa che si muoveva ma perché erano dei ragazzini di 18 20 22 anni e per loro qualsiasi civile che si muoveva era un pericolo io ho visto tantissime interviste a soldati americani che dicevano vivevamo sul chi va là quindi si sparava a qualsiasi cosa le regole di ingaggio sulla carta erano una e nella realtà sparavano a qualsiasi veicolo e da lì l'eccesso di morti civili e di errori diciamo è corretto assumere che la guerra asimmetrica è una questione di politico militare mentre la guerra convenzionale è una questione più tecnica militare beh abbastanza perché comunque due eserciti più codificati si affrontano probabilmente anche rispettando di più diciamo le regole internazionali di ingaggio mentre gli eserciti irregolari la guerra ibrida è più sporca è più intima diciamo per utilizzare un termine un po' strano è più vicina è più intima è più adrenalinica è più emotiva quindi ha anche un ormai non mi vengono più nemmeno i termini in italiano è big toll cioè nel senso un un peso su chi la subisce e su chi deve combattere anche a livello proprio di stress di stress emotivo come mai in Ucraina non si stanno rispettando le regole di ingaggio perché non le hanno mai rispettate cioè nel senso non è che è una novità che in Ucraina non le rispettano la narrativa odierna è completamente incentrata su quello che sta avvenendo adesso scordandosi gli otto anni precedenti ovvero la guerra in Donbass che era una guerra vera e propria siamo noi che ce lo siamo dimenticato ricordo 15.000 morti non siamo ancora arrivati a 15.000 morti nella guerra corrente e parlo solo da parte russa da parte Ucraina non lo so quanti ne hanno persi nella guerra nel Donbass civili sfollati qualche centinaio di migliaia quindi è difficile ragionare sull'adesso nel senso che se non le rispettavano prima non vedo perché le dovrebbero rispettare adesso l'abbiamo visto i russi fanno dei bombardamenti usano anche vecchio equipaggiamento probabilmente anche in ottica di liberarsi di vecchie cose ma lo facevano anche gli americani di utilizzare vecchio armamento in Iraq per consumarlo e causano dei morti e gli ucraini rispondono il famoso missile che è arrivato sul Donbass all'80-90% è ucraino pensare che i russi si sparino da soli la vedo buia anche perché quel particolare sistema è stato radiato dall'esercito russo da un bel po' un sistema degli anni 70 quindi mentre sappiamo che gli ucraini ne hanno 90 di quei sistemi non è detto nemmeno che sia un ordine dall'alto cioè può essere anche un semplice comandante di un plotone di artiglieria che quella mattina ha incazzato nero perché magari gli è morto un parente come danno collaterale di guerra e decide di sparare tanto in mezzo a questo casino che è chi ti va a rendere conto di un missile sparato o di un colpo di artiglieria allora quanto costa a grandi lini formare un normale soldato di fanteria Ivano ha stimato su 100.000 euro all'anno dicendo che però dipende da molti fattori beh dipende che tipo cioè un conto è un fante coscritto o è un conto è un Navy Seals o un Delta che hanno tutto un altro tipo di equipaggiamento e tutto un altro tipo di infrastrutture e di addestramento diciamo diciamo che il soldato medio occidentale a livello di equipaggiamento costa 20-30.000 dollari se non sbaglio un cinese 5-6.000 tanto per dare per dare un'idea però è molto indicativo perché ci sono dei fattori che fanno aumentare tantissimo i costi dell'equipaggiamento come può essere un visore notturno un'ottica e cose del genere ora scusatemi un secondo torniamo perché sennò veramente si fa mezzanotte per spiegare queste cose quindi ritorniamo alle dottrine quindi chi vuole saltare la parte delle domande e risposte allora quindi veniamo dunque alle vere dottrine russe i cui padri sono Makarov Primakov Mahmut Garev e Splicenko ancora prima di Gerasimov allora veniamo alla dottrina russa attuale che in realtà ha radici profonde e comincia a metà degli anni 90 con Mahmut Garev aspetta che lo metto anche in in foto perché è interessante eccolo qui lo vedete Pacioccone e Bonario e tanto Pacioccone e Bonario non era ok che è interessante visto che si parla di libri che magari uno vuole utilizzare per approfondire queste cose a metà degli anni 90 Mahmut Garev ha scritto if war comes tomorrow dove l'ufficiale russo teorizza con il progresso tecnologico si sarebbe data la capacità di attuare precisi raid ed operazioni militari nel cuore del territorio nemico e quindi la diffusione di notizie false nello spazio informativo nella strategia dottinaria russa mi rendono da stabilizzare il tessuto sociale del paese e qui si vede alla strategia degli uomini verdi che ovviamente sai quando tu attizzi e tieni viva una minoranza una maggioranza dipende nel Donbass contro gli altri cominci a destabilizzare il tessuto sociale del paese e quindi della fiducia della popolazione verso il proprio governo e le istituzioni dello stato stesso questa è la situazione dell'Ucraina praticamente da manuale secondo il libro If War Comes Tomorrow di Mahmoud Garev se non sbaglio ho messo anche la copertina quindi se ve lo volete trovare se non sbaglio lo trovate su Amazon è questo qui è bello che i russi scrivono tutto è anche come gli americani quindi quando si parla di dottrine russi americane eccetera che sono cattive imperialistiche che parlano di guerra simmetrica destabilizzazione di governi eccetera è tutto scritto quindi non c'è nulla da inventarsi non so se ti sei collegato ora Enrico compagno non capisco questo ragionamento per gli ucraini stanno combattendo in maniera non convenzionale cosa hanno sbagliato i russi dato che hanno un esercito mobile e non all'antica perché è un esercito basato su dottrine di guerra simmetrica e quindi molto inadatti a una campagna di stampo classico poi c'è l'aggravante gli ucraini probabilmente ben imbeccati dagli occidentali sono stati istruiti a non accettare battaglia in campo aperto e quindi i russi si trovano a fare doppiamente un tipo di guerra per cui non sono preparati hanno un esercito impostato per un tipo di guerra simmetrica o ibrida e si trovano dall'altra parte un esercito che non accetta nessun tipo di ingaggio che non sia praticamente scontro cittadino che anche per chi fa guerra simmetrica e ibrida beh è il peggior tipo di scontro che puoi fare insomma e siccome hanno utilizzato anche molte truppe di leva beh quelli non sono proprio adatti a questo tipo di guerra è una scelta tattica strategica ricordo che la scelta della guerra ibrida ha un alto peso anche sulla sulla popolazione perché tu praticamente decidi di portare la guerra non sui campi di battaglia ma sui ma sulle città può essere anche una strategia nel senso più danni i russi fanno più l'occidente magari è incline anche a a fare qualcosa può essere un po' cinico come ragionamento ma nella strategia c'è anche questo come c'è nella strategia il discorso di utilizzare truppe di leva all'inizio per fargli assorbire i danni e poi utilizzare le truppe buone dopo ci sta anche questo è una possibilità non è da escludere quindi vanno considerate anche anche queste cose qui ecco vedi l'autocommissione delle Nazioni Unite dei diritti umani OHCHR ha documentato 34.766 vittime della guerra in Ukraine tra il 14 aprile 2014 e il 15 agosto 2017 beh come vediamo è stata una guerra diciamo abbastanza combattuta a bassa intensità ma comunque lì si sparavano tutti i giorni siamo noi che ci occupiamo di certe cose soltanto quando fa fa notizia perché poi parlare otto anni della stessa guerra che va avanti e ogni giorno si danno un colpo di mortaio da noi non tira più però da loro insomma hanno continuato a spararsi continuiamo con le nostre dottrine perché la storia è ancora lunga allora sull'information warfare avviene un ulteriore aggiornamento cioè compiuto dal generale Vladimir Splicenko che lui aveva teorizzato praticamente che le future guerre sarebbero combattute senza attaccare direttamente le apparate militari ma sarebbero state colpite indirettamente le strutture economiche degli stati che anche questa è interessante quindi durante il periodo sovietico i servizi di intelligence di Mosco usavano la strategia dell'information per supportare le campagne politiche quindi finalizzate a rivoluzioni diciamo di stampo filo comunistica o cose del genere quindi arriviamo un pochino al periodo Grasimov perché è abbastanza interessante anche se in realtà come abbiamo detto le sue dottrine fanno parte della riforma dottrinaria del suo predecessore cioè Makarov e lui che l'aveva cominciate poi arriva Grasimov per questioni di età e praticamente durante il periodo Grasimov avviene il cambio quel cambio famoso che passa praticamente da un vecchio sistema divisionale molto di vecchio stampo al sistema di brigate e armate combinate come abbiamo adesso che è un sistema più modulare diciamo tu hai le brigate e le puoi comporre all'interno di un'armata un po' come ti serve quindi se fai una battaglia più di tipo campale o di assedio puoi aggiungerci delle brigate di artiglieria che non di corazzati eccetera mentre una divisione corazzata è una divisione corazzata appunto ci puoi aggregare altre cose ma diciamo non ha una struttura di comando fatta in maniera modulare cioè è strutturata su una divisione e quella è quindi hanno questo esercito basato su brigate e purtroppo stanno facendo un tipo di guerra invece che molto classica per questo che si torna a ragionare un pochino su sistemi anche da seconda guerra mondiale lasciando perdere i sistemi tecnologici che vengono utilizzati come i pod e altre cose però alla fine il grosso del combattimento avviene in uno sconto molto classico carro contro carro fanteria contro fanteria c'è lo sporadico drone ma stiamo parlando di numeri infinitesimali sia da una parte che dall'altra quindi questo è un libro che vi consiglio se volete approfondire visto che parliamo quindi lui è uno dei primi che ha cominciato a codificare per passare invece al periodo corrente perché all'interno della dottrina c'è questa riorganizzazione delle forze armate russe che parte nel 2008 ovvero quando Vladimir Putin ricopre la carica di primo ministro per la seconda volta poi c'è il periodo Mevdevdev 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 ricordo mai com'è ed è interessante perché c'è la guerra lampo con la Georgia proprio nel periodo in cui si deve praticamente ci si deve occupare dell'Ossetia e dell'Abkhazia però proprio in quel conflitto vengono diciamo diventano evidenti i problemi strutturali dell'esercito russo e quindi si incomincia tutto un processo cioè da 2008 al 2014 vengono rimpiazzati tutti i mezzi obsoleti dell'era sovietica vengono aggiornati c'è un grandissimo programma di aggiornamento vengono diciamo stanziati degli enormi fondi puntando su ricerca sviluppo e sul progresso tecnologico e dell'innovazione ovviamente con l'innovazione tecnologica e del parco macchina viene anche il rinnovamento della dottrina ok di cui Gerasimov non è che contribuisce a livello a livello diciamo di scrittura nel senso che non è un teorico Gerasimov contribuisce a livello strutturale cioè è lui che si occupa della riorganizzazione ok cioè l'esercito che abbiamo oggi per come è strutturato lo dobbiamo a Gerasimov però non è che sia stato lui a scrivere le dottrine sul come impostarlo ci sono arrivati molti per gradi prima di tutto Makarov che è probabilmente quello a cui va attribuito che sarebbe lui l'impostazione l'attuale perché lui ha fatto il grosso del lavoro e poi si è dovuto ritirare per questione di età ed è subentrato Gerasimov stoppiamo un attimo per le domande allora cosa ci può dire circa 15 laboratori batteriologi finanziati dai americani costituiti in China nulla perché è la prima volta che lo sento quindi non sono un tuttologo e se non so una cosa lo dico sì le dottrine vanno anche cioè tu puoi anche scrivere tutte le dottrine che vuoi se poi il bilancio non ce la fa su teoria sì anche io vorrei avere una dottrina basata su 10.000 caccia totale la chiamerò dottrina della dominazione aerea totale poi se non hai il budget per attuarla beh rimane su carta insomma no la dottrina non so dell'aeroporto navale voglio 200 portaerei poi devi avere anche la capacità di attuarle quindi le dottrine vanno a pari a pari passo con le capacità dell'esercito e delle prospezioni di bilancio che tu puoi avere allora la resistenza a cura dentro mi pare che la toichia abbia vinto il che non significa che il conflitto non possa riattivarsi e concludersi diversamente beh anche il conflitto di cecenia è ufficialmente finito ma in realtà un po' di resistenza c'è ancora come in abacazia e ossezia come abbiamo visto anche in in afghanistan cioè non hanno mai cessato in realtà i combattimenti quindi noi le dichiariamo finite ma in realtà anche la guerra in Siria continua in maniera diciamo più più leggera ma c'è semplice non credo che qualcuno voglia andare a vivere in Siria ultimamente ma la Russia non ha i mezzi per esercitare un controllo totale sui cieli ucraini sì ce l'ha il problema è che avendo anche tanti mezzi vecchi e l'Ucraina è stata essendo stata rifornita i sistemi misilici abbastanza aggiornati in realtà quegli aerei vecchi li perdi molto velocemente il problema è di un aereo vecchio sai qual è? è che l'aereo può essere anche vecchio e poco costoso il pilota no quindi quando tu usi piloti e li rischi su vecchi su vecchi aerei beh forse era meglio se stavano su degli aerei moderni il problema è che il costo degli aerei moderni di mantenimento e di livello operativo sono enormi e quindi è molto meno dispendioso utilizzare vecchi vecchi aerei anche se rischi i piloti diciamo però come diceva il riccardo il plantageneto i morti non costano esiste la possibilità che la bielorussia enti ufficiale in bed tecnicamente è già cobelligerante nel senso l'attacco russo è passato dalla bielorussia è totalmente appoggiato logisticamente alla bielorussia e molto probabilmente molto presto anche la bielorussia comincerà a schierare un po' di truppe come sappiamo stanno arrivando i siriani anche se i siriani negano cose del genere ho sentito che l'aeronautica russa manca di ricambi inverosimile visto che sono aerei prodotti da 50 anni quindi probabilmente sono strapieni di ricambi proprio perché c'è anche l'effetto cannibalizzazione cioè tu hai magari 500 su 24 e quindi ne hai magari 100 che non sono più in grado di volare e tutti i pezzi che vuoi quindi c'è l'effetto cannibalizzazione sono due cose che cozzano non puoi dire che se hai se hanno 500 aerei di quel tipo sono negli anni 70-80 li hanno prodotti per 30 anni poi dice mancano i pezzi no hanno un parco macchine enorme da cui utilizzare ricambi anzi come è il discorso di Putin il pazzo io lo dico sempre o è pazzo o è uno del KGB freddo strategico eccetera cioè questa narrativa ora è il pazzo negli ultimi 20 anni era il freddo calcolatore eccetera sono due cose che cozzano che non stanno in piedi quindi delle due cose l'una decidetevi in realtà secondo me è tutto io lo dico sempre il russo non va neanche di corpo senza un piano quindi secondo me è tutto calcolato molto più di quanto si pensi in occidente poi che sia stato calcolato male quello è un altro discorso però è calcolato ecco brava stellina non scrivere mentre guidi il pionaggio che funzione ha nella dottrina russa enorme perché comunque una dottrina di guerra simmetrica ha un enorme utilizzo dell'intelligence devi esattamente conoscere anche la cultura e le condizioni sociologiche del popolo che vai a colpire soprattutto se è basata su stimolare gli istinti di una minoranza all'interno di un paese per destabilizzarlo e quindi far perdere in generale alla popolazione fiducia nel governo quindi lo devi conoscere bene i russi conoscono bene l'Ucraina parlano la stessa lingua quindi a livello di intelligence è molto più facile agire all'interno di un paese che ha una lingua praticamente che è la stessa cioè praticamente quasi tutti gli ucraini parlano russo diciamolo allora che ci fa in tangenziale sta tornando dal lavoro se gli ucraini riescono a fare una controoffensiva su larga scala i russi sarebbero preparati mentalmente ad una difensiva beh quello è proprio il tipo di cosa che gli ucraini non possono fare se vanno a fare un'offensiva uscendo dalle città vanno in campo aperto e lì allora i russi possono usare tutto il vantaggio dei loro sistemi missilistici di artiglieria dell'aeronautica cioè esattamente quello che forse i russi vorrebbero assediarli finché l'altro non è costretto a fare una una risposta io ti ricordo che gli ucraini hanno provato a fare una piccola controoffensiva a est di Kiev con successi limitati il piccato puntando a liberare le unità per portarle via dalla sacca che poi si è richiusa visto che non si può intervenire direttamente non è pensabile rompere le balle a Putin in tutte le zone in cui la Russia ha interessi tipo Sahel o Siria ci abbiamo provato ci abbiamo provato dicendo che c'erano le armi di distruzione di massa il problema è che quella storia ce la stiamo già giocata un paio di volte quindi diciamo che un'altra volta non ha funzionato anche perché chi utilizzava i gas non era solo Assad ma erano anche le forze ribelli apposta usavano i gas perché poi così la colpa sarebbe mandata ad Assad e questo è documentato che entrambi i lati l'hanno utilizzato il Vietnam con chi si è schierato dici adesso in questo momento non saprei ma credo con nessuno cosa vuole schierare il Vietnam hanno ancora l'equipaggiamento americano catturato sono paesi ininfluenti nell'ottica attuale io mi preoccuperei più della Cina ecco anche se non ha nessun interesse a entrare in guerra perché la Cina vive del mercato estero cioè di import export vive la Cina quindi una guerra per la Cina essendo una nazione che dipende da un'economia globale per crescere non ha nessun interesse a una guerra ho letto un analista americano che ipotizzava l'uso di atomica attrazione magari senza fare troppo monotri civili per infrescare la deterrenza e dimostrare che sono disposti ad usarla beh potrebbe essere un'ultima razio ma prima di usare quello insomma c'è l'artilleria classica i razzi le termobariche gli S-400 i vecchi S-300 ce n'è prima di arrivare a quello insomma allora ho sentito Locatelli che parlava di infiltrati russi a Kiev catturati che usano i vernici speciali per mancare palazzi poi colpiti e rendere visibili per essere trattati sì l'ho seguita anch'io quella mi sembra abbastanza plausibile il problema è perché utilizzare della vernice ci sono praticamente dei sistemi stroboscopici che mandano dei laser che praticamente degli infrarossi che vengono detectati dalle truppe aeree perché rischiare tanto con della semplice vernice insomma mi sembra un modo un po' rudimentale per fare una cosa del genere puoi impiantare degli emettitori radio insomma ci sono dei sistemi molto più semplici meno visibili per marcare un edificio magari era qualche saltatello del posto neanche infiltrati cioè un filo russo che era già lì ed era filo russo più che un qualcosa organizzato dai russi stessi beh se i missili sugli avori fossero partiti dal mar nero non potrebbero essere schiamati per un tacco alla polonia fino all'ultimo momento sì infatti io anche per questa ragione qui sono partiti dalla bielorussia anche perché perché rischiare di sbagliare un lancio così lungo quando puoi colpire benissimo gli avori dalla bielorussia che si trova a qualche centinaio di chilometri invece che a mille chilometri o duemila chilometri anche perché le navi che si trovano nel mar nero non hanno quella capacità non hanno quel range si vede i marker impulsi che si vedono in black hawk down cioè una tecnologia vecchia degli anni 90 quindi figuriamoci se non puoi averli non puoi averli ora vediamo un po' oggi il media cinese ha riportato la notizia dell'uccisione di 10 civili ucraini in fila per il pane da parte dei russi direi che non si mette bene per la Russia le morti civili ormai non fanno più notizia né da una parte né dall'altra sono praticamente un danno diciamo che avviene sempre in Iraq si parla sempre di quanti morti l'Iraq ha causato ci sono anche i morti diciamo che avvengono per le cause di guerra tipo si stima che nella guerra in Iraq siano morti fra i 5 e i 700 mila civili perché oltre a quelli che muoiono in guerra direttamente da una bomba o da un marine che spara o da un carro armato che investe una macchina ci sono anche quelli che muoiono per mancanza di assistenza sanitaria di medicine puoi morire delle malattie più banali d'amore puoi morire perché sei insulinico puoi morire perché c'è un attacco di ipertensione perché non c'è assistenza sanitaria perché tutte le strutture sociali vengono meno quindi sono dei morti diciamo che avvengono parallelamente alla guerra e poi vengono associati ai danni della guerra stessa cosa ne penso dell'invio di armi in Ucraina beh l'ho già detto almeno 200 volte da Ivan Grieco dipende cosa perché di solito l'invio di armi finisce sempre con il paese che subisce quelle armi poi ti considera cobelligerante perché dipende che utilizzo viene fatto da quelle armi cioè nel senso mandare delle armi non è neutrale come crediamo noi se noi mandiamo diciamo che regaliamo 20 F-16 agli Ucraini e questi usano questi 20 F-16 per bombardare il Donbass e fanno 5.000 morti civili beh è un crimine di guerra di cui noi abbiamo fornito gli armamenti quindi comincia a diventare difficoltoso anche semplicemente dire forniamo armi perché è quasi impossibile poi sapere che utilizzo ne viene fatto e soprattutto avere il tracking delle armi cioè a guerra finita tutte queste armi che noi abbiamo fornito agli Ucraini dove finiranno? chiediamocelo quindi non è un discorso neutrale è un po' più complicato di così in Vietnam l'Afghanistan è stata più o meno così non mi sembra che la guerra si sia allargata ai fornitori beh l'Afghanistan non era nemmeno uno stato e in Vietnam non potevi attaccare il fornitore perché il fornitore era l'unione sovietica non puoi attaccare uno stato nucleare quindi è un parallelismo che non funziona mi dispiace cosa facevano gli americani? attaccavano i russi per la guerra in Vietnam? Mutual Assured Destruction MED per questo si facevano le proxy war ai tempi della guerra fredda perché in realtà non potevano colpirsi si avvicenda direttamente comunque torniamo alle dottrine allora il vento di rinnovamento condiziona la revisione della stessa dottrina militare russa di cui Gerasimov contribuisce nella riorganizzazione perché questa è interessante quindi diciamo che la dottrina che viene utilizzata adesso fa parte diciamo del pensiero russo ufficiale semplicemente perché viene ereditata dal lavoro precedente di Makarov quindi vediamo in cosa si distingue la dottrina di Makarov allora diciamo che sono identificate circa sei fasi ok questo è il discorso che viene sempre sempre fatto poi in realtà se uno va a leggere gli iscritti è codificata in maniera un po' più un po' più precisa diciamo però in linea di massimo ok diciamo che c'è la fase turbolenta dove praticamente avvengono le destabilizzazioni quindi parliamo del Middle East cioè parliamo del Nord Africa le primavere arabe la caduta di Gheddafi i cambi di stato il corpo di stato diciamo in Egitto cose del genere no qui Makarov vede in questa situazione che c'è una destabilizzazione che sta avvenendo un po' ovunque in giro per il mondo ok cioè lui vede che anche un'azione abbastanza fiorente da un momento all'altro boom può può finire nel caos con una guerra molto molto asimmetrica vedi la Libia la Libia dittatura a meno era abbastanza stabile no e poi improvvisamente è finita nel caos molto velocemente dall'interno lì si può parlare però di occidentali che utilizzano la strategia ibrida per supportare delle forze che sono anti stato di quel paese quindi occhio a a considerare solo i russi i cattivoni perché queste strategie i russi le hanno guardate da noi e poi le hanno adottato quindi la prima fase è occulta cioè la prima fase praticamente si comincia con destabilizzare il paese lo devi studiare cioè devi avere degli analisti che studiano il paese ne comprendono diciamo le minoranze ne comprendono le possibilità per creare diciamo una quinta colonna parliamoci chiaro ok quindi i russi capiscono che possono fare una guerra di questo tipo la dottrina in soldoni sarebbe basato sul fatto che tu puoi abbassare al tuo livello uno stato che ritieni intoccabile al livello di esercito cioè il tuo avversario è troppo forte non lo puoi affrontare sul campo e quindi cosa fai lo abbassi e lo porti al tuo livello così lo destabilizzi e quando c'è un po' di caos allora puoi cominciare a lavorare di grimaldello piano piano che è una cosa interessante quindi si vede come questa questa tecnica funziona per molti paesi però devi comprendere bene come funziona quel paese quindi per i russi è molto facile fare questo genere di operazione in in Ucraina parlano russo conoscono bene le minoranze o le zone a maggioranza russa quindi tu sai chi devi smuovere per cominciare a destabilizzare quel paese è la strategia utilizzata dal 2014 fino a questa guerra che ovviamente poi c'è la seconda fase ovvero l'aumento della tensione praticamente funziona così tu aumenti il livello di conflitto perché il paese che tu hai destabilizzato non ha le tue stesse risorse per mantenere quel conflitto quindi tu ne aggravi praticamente le finanze facendoli spendere risorse che per te mettendole a bilancio hanno diciamo un peso minimo annuale rispetto al paese che stai destabilizzando e per lui diventa una questione primaria io ricordo sempre che il fine ultimo di ogni stato è di preservare se stesso quindi la Russia verosimilmente ha più capacità di spese di assorbimento del danno che non l'Ucraina e quindi questa è la tecnica che viene utilizzata la prima fase la destabilizzazione la seconda fase l'applicazione della pressione costante sul paese che viene destabilizzato in modo da renderlo sempre più debole e soprattutto forza la classe politica interna a schierarsi o da una parte o dall'altra e quindi crea uno split all'interno cioè una tensione anche sociale e governativa e questo lo possiamo vedere chiaramente in Ucraina ricordiamo il massacro di Odessa non per dire per usare quello perché l'hanno fatta cioè quella parte l'ha fatta quell'altra parte ma per far capire che quando tu cominci a stimolare le divisioni interne beh queste diventano sempre più gravi si allontano sempre di più l'uno dall'altro si radicalizzano e quindi tipo non si parlava degli ucraini filo nazisti all'inizio 2000 non erano così radicalizzati né avevano delle forze armate né la parte russa era così radicalizzata dall'altra parte quindi questa è tutta una strategia che funziona tanto più un paese ha dei problemi di minoranze e l'Ucraina lo sappiamo è un paese creato parzialmente sulla carta dal punto di vista geografico non dal punto di vista etnico o culturale quindi un bersaglio perfetto per un tipo di strategia di questo tipo quindi la fiducia delle istituzioni comincia a sgretolarsi quindi si passa alla terza fase c'è un inizio diciamo camuffato di operazioni dove tu a questo punto inserisci le tue truppe ma in maniera camuffata e qui veniamo agli omini verdi con magari truppe che non fanno parte nemmeno dell'esercito ma fanno parte della Wagner cioè di una società come la Blackwater USA quindi mercenari e quindi si comincia a forzare quel paese a fare qualcosa di più e portarlo sempre più vicino a una crisi qui si aggiunge un'altra cosa a corollario il fatto che mantenere la guerra in quel paese ne blocca anche l'entrata della Nato perché da statuto Nato un paese non può mettere in pericolo gli altri con la sua entrata quindi c'è da considerare anche questo nella strategia russa in Ucraina che è abbastanza importante diciamo visto quello che sta succedendo quindi questa è una delle fasi più importanti perché tu forzi un paese che magari è già destabilizzato le stai mettendo pressione adesso deve anche spendere soldi in armamento con un'economia chiaramente inferiore alla tua quindi comincia una corsa alle armi che è sfavorevole per il paese che viene destabilizzato perché deve anche occuparsi dei problemi interni mentre tu cominci anche ad appoggiare quelli che sono filo tua parte quindi cominci anche a erodere parte del tessuto sociale del paese mentre l'altro fa l'altro l'iniziativa che è importantissima in guerra l'iniziativa è tutta dalla parte tua cioè l'altro deve sempre giocare di rimando da una mossa tua lui deve tentare di reagire gli ucraini chiaramente non erano in grado di reagire alla mossa degli uomini verdi e hanno perso pezzi di territorio nazionale proprio per questo la quarta fase è la crisi definitiva cioè nella quarta fase si comincia a vedere le forze le operazioni regolari cioè quello che vediamo noi oggi praticamente campagna propagandistica mediatica e si parla praticamente di puntare alla distruzione dello stato cioè della della classe dirigente e del suo esercito per poi diciamo far arrendere il paese che è quello che i russi hanno tentato di fare quindi i russi diciamo nella fase 1 2 e 3 sono andati molto bene ha funzionato da manuale la fase 4 cioè la decapitazione del governo ucraino e la destituzione diciamo di tutto l'apparato strutturale e dell'esercito non ha funzionato probabilmente per un errore di calcolo che secondo me è insito nella dottrina stessa cioè in questa dottrina loro non hanno considerato un fattore se tu destabilizzi un paese lo porti piano piano in tensione lo radicalizzi questo paese essendosi radicalizzato ora avrà delle posizioni molto più nette quindi aspettarsi un crollo dal punto di vista politico e organizzativo secondo me non è auspicabile perché l'hai portato a essere talmente radicalizzato nella propria esistenza nel tentare di mantenere la propria esistenza che a questo punto tentare di decapitarlo beh è abbastanza stupido perché lo hai portato tu a radicalizzarsi paradossalmente se avessero fatto l'operazione che hanno fatto oggi nel 2014 insieme alla Crimea avrebbero preso il resto dell'Ucraina che non era pronta né dal punto di vista interno né dal punto di vista militare e quindi questa dottrina secondo me funziona fino a un certo punto fino al punto 3 però poi devi sapere quando colpire prima di portare quel paese sulla difensiva perché da 2014 a oggi gli ucraini si sono radicalizzati nell'esistenza di se stessi non radicalizzati non concepite radicalizzati in maniera nel senso fascistico nel senso di identità nazionale messa in pericolo e secondo me questo è stato l'errore della dottrina che può essere un errore o di valutazione o di semplicemente i russi non erano pronti nel 2014 visto che la riforma interna era più o meno finita verso quel periodo e quindi non erano in grado di fare un tipo di operazione secondo me hanno aspettato troppo per fare questo tipo di operazione e quindi diciamo i guadagni di questa strategia nelle fasi 1, 2, 3 è andata persa e questo può essere un'analisi del fallimento attuale della situazione ora ditemi cosa me ne pensate voi io ne ho ancora per un dieci minuti su questa questione quindi sentiamo un po' di cosa ne pensate di questa analisi ovviamente sono stati preparati dalla NATO gli ucraini sono stati istruiti a non affrontare i russi in una guerra ora ci arriviamo Taro intanto speculate a una guerra non frontale con l'esercito russo perché non te lo puoi permettere quindi ovviamente giocano una guerra per temporeggiare perché questa guerra costerà tantissimo alla Russia e soprattutto se li forzi a un combattimento all'interno delle città beh bisogna anche vedere se i russi sono inclini a spendere così tanto pur di ottenere una vittoria che poi serve una vittoria di Pirro perché io lo dico sempre un conto è la battaglia per l'Ucraina e un conto è la guerra purtroppo secondo me non hanno messo in calco all'interno di questa dottrina io me la sono letta tutta ne ho lette varie versioni mi sono letta quella di Macaro mi sono letta lette praticamente tutte le dottrine possibili compreso in un paio di analisi occidentali e all'interno della dottrina non viene calcolato il fatto che se tu attizzi il fuoco di un'identità minoritaria all'interno di un paese le due ali si radicalizzano quindi all'inizio lo indebolisci il paese ma nel lungo termine il paese diventa più coeso su posizioni completamente opposte per carità quindi guerra civile cose del genere Donbass però nel lungo termine se tu vai ad attaccare quella parte che si è coesa sulla loro sulla loro posizione non funziona più cioè tutti i guadagni che tu hai fatto di stabilizzazione e di creazione diciamo di questa di questa instabilità beh si perdono col tempo la propaganda russa in occidente vedi Trump e Le Pen rientra in questa dottrina beh oddio Trump si è fatto tanti di quelli autogol che è un pochino difficile attribuirlo ai russi cioè io mi ricordo quando Trump disse io mi fido più di Putin della mia intelligence c'era Putin che aveva un sorriso che gli faceva il giro della testa perché era per i russi era un momento di orgoglio vedete gli americani i democratici dicono eh noi addirittura siamo talmente forti da poter influire sulle loro sulle loro votazioni democratiche no quella era Trump che è a livello di strategia è un fanta de mente cioè l'Afghanistan non lo saprebbe nemmeno trovare su una cartina ciao da Rena allora vabbè passiamo alla fase 5 visto che ci siamo ragazzi perché è interessante la fase 5 c'è ovviamente l'evoluzione e quindi diciamo la conclusione delle operazioni militari ovvero quando tu cerchi di portare a casa il vantaggio no quindi cominci praticamente un coinvolgimento diretto del tuo Stato rispetto allo Stato che stai occupando e quindi diciamo prima di ritirare le truppe comincia a fare pressione sulla comunità internazionale per ottenere gli obiettivi che ti sei posto vi torna qualcosa visti i negoziati dove c'è Putin che dice voglio il riconoscimento della Crimea voglio il riconoscimento del Donbass eccetera beh quella è la fase 5 ovvero portare a casa gli obiettivi strategici che ti eri prefissato non col paese stesso perché se militarmente l'ha già sconfitto non hai bisogno di parlare con quel paese hai bisogno dell'autorizzazione della comunità internazionale ok nella sesta fase che forse credo che quella è meno chiacchierata di tutte praticamente cosa fai dici che mantieni il tuo esercito per fare un'operazione di peacekeeping vi torna abbastanza familiare e quindi distendi la situazione per ricostruire il paese però lo ricostruisci anche politicamente quindi adesso il paese lo ricostruisci a spese tue qui vuole vedere come i russi ricostruiscono l'Ucraina per poi allinearlo verso di te quindi all'inizio lo destabilizzi promuovi la guerra civile lo invadi rimuovi il governo riconosci ottieni il riconoscimento internazionale delle tue pretese ricostruisci il paese ovviamente facendoli ingoiare la tua narrativa che tu eri il buono fine della dottrina ora noi siamo alla fase 4 direi che alla fase 4 si sono fermati infatti con che soldi perché nella fase 3 doveva crollare in tre giorni cioè l'occidente non aveva non doveva nemmeno avere il tempo per reagire e invece secondo me questa cosa si è inceppata nella frase tra la fase 3 e la fase 4 come ho detto io sbagliate le tempistiche sbagliato il modus operandi sbagliata l'operazione sbagliato proprio a livello di tempistiche secondo me questo fattore come ho già ripetuto della radicalizzazione del paese non è stata tenuta in conto oppure i russi semplicemente non erano pronti a colpire nel 2015 nel 2016 nel 2017 quando molto probabilmente questa operazione avrebbe avuto successo perché gli ucraini non erano né così coesi né militarmente capaci di rispondere il problema è che probabilmente neanche la Russia era capace di attuarla no di questa camicia io ne ho tre uguali e io la chiamo la mia camicia da live sto cercando di brandizzare anche diciamo le apparizioni con uno standard di un certo tipo ne comprerò delle altre tipo queste blu comunque più o meno sempre su questo tiro un po' da marinaio un po' da ufficiale diciamo è possibile che le valutazioni errate dell'interno siano frutto di controspionaggio no io credo che da dottrina Makarov questa operazione era pianificata da 2014 e Putin a un certo punto secondo me si è stufato si è stufato si è reso conto che mancava poco alla fine del suo periodo politico e di gestione e quindi probabilmente ha ha tirato l'acceleratore e quindi tirando l'acceleratore ha forzato la mano ai militari che probabilmente ormai consideravano fallita la dottrina Makarov ecco brava Antonello no sono vestito da parrobellum esatto ora vedete tutti si vestiranno così comunque metterò sotto ovviamente i pdf che ho utilizzato e studiato per la questione sono alcuni libri sono all'interno della live quindi potete andare a ripescarli il resto quasi tutti i pdf si trovano sono liberi insomma alcuni sono americani sono istituti militari da west point ad altri sono analisi le dottrine invece russe beh se non conoscete russe è già più difficile ci sono delle dissertazioni diciamo accademiche sulle dottrine russe dove fanno delle analisi e dove più o meno parlano di queste cose diciamo tutto in inglese ovviamente scordatevi qualcosa in italiano su queste cose non la troverete quindi è tutto è tutto in inglese sappiamo quante armi stiamo mandando all'Ucraina se ti riferisci a noi italiani particolarmente per ora nulla chiacchiere stanziati 12 milioni di euro poi vediamo di cosa cosa faccio di specifico nella vita lo storico lo storico militare collaboro con riviste come l'universale con blog giornali faccio video consulenze conferenze tra l'altro a maggio c'è una conferenza a Bergamo sull'Africa orientale italiana ne avevamo fatta una a settembre dove avevamo parlato della guerra in Etiopia faccio questo scrivo libri studio dottrine militari strategie militari campagne militari diciamo sai considerare libri in italiano sulle dottrine russie sovietiche no perché anche se ci fossero non sarebbero a livello di quelle in inglese e io onestamente credo ormai da una ventina d'anni leggo pochissimo in italiano perché comunque la storia o questo genere di cose in italiano esiste poco ed è di basso livello oppure sono libri molto vecchi molto datati quindi quasi tutto è in inglese cioè alla fine la scienza militare è quasi tutta in inglese i miei libri sono reperibili nella mia biblioteca entrate su disco il canale pdf oppure andate sotto i video delle analisi tattiche della guerra di solito ho messo un link in sticky ci puoi entrare da un normalissimo browser se parli invece dei libri che sto scrivendo io non li sto ancora scrivendo vediamo sono abbastanza occupato quindi si spera che entro quest'anno usciranno a quando la prossima live con Ivan Grieco dipende da Ivan Grieco a volte me lo dicono un'ora prima ci sei vuoi venire va bene io di solito diciamo che mi rendo disponibile se c'è un ospite interessante con cui parlare in maniera pacata di cose insomma di cose di cui mi occupo io come l'avete visto se mi trovo in un ambiente dove c'è tipo airfaina già mi sento come un pesce fuor d'acqua insomma ho risposto prima a Crizzino quindi vai indietro di tre minuti nella live proseguirò a fare i video quando finisce questa storia ovviamente ci sono già tipo tre video pronti i miti 4 Globokai Operazia e Maschirovka quindi dottrine sovietiche la seconda guerra mondiale Maschirovka eccetera uno di 40 minuti uno di mezz'ora e uno di 20 minuti il problema è che se li tiro fuori ora non se li filerebbero in molti invece preferisco farlo finita questa faccenda anche perché ci sono delle collaborazioni in corso in parallelo con Drachenfeld che è uno storico militare inglese che si occupa soprattutto di di Marina Vanilla Magazine e la biblioteca di Alessandria che dovrebbe tutto uscire insomma nel giro dei prossimi 30-40 giorni quindi diciamo uscirà come una bella botta di collaborazioni e poi torniamo a parlare di cose nostre insomma quindi guerra sino giapponese guerra civile spagnola eccetera eccetera Mirko che ne pensi di Vlad Sparastoria è meglio che non parlo ti dico soltanto vai sotto il video sul Ferdinand che ho fatto che ha fatto lui dove l'ho beccato a fare un video risposta a Metal Mike citando Wikipedia senza fonti e io li faccio notare che quello che lui ha detto è preso da Wikipedia senza fonti infatti il mio è l'unico commento sotto a quel video che non ha il cuoricino guarda caso e quando gliel'ho fatto notare su Discord di Peter Ironborn si è dileguato direi che è abbastanza esplicativo insomma e l'ho visto da Ivan Grieco l'altro giorno e ha detto una marea di cavolata ha detto che B52 sono degli anni 50 non rendendosi conto che la linea sì ma B52 H è del 1998 è un bombardiere a turbogetto e quindi poi ha fatto un casino sulla strategia sulle dottrine russe diceva che la dottrina russa è tattica no la dottrina russa non è a livello tattico non è fatta per accerchiare gli avversari come la Bewegung Skrig o la Blitzkrig in realtà è pensata per effettuare degli sfondamenti strategici al fine di non permettere all'avversario di ripiegare e quindi riorganizzarsi quindi ha uno scopo e una dimensione completamente strategica e non tattica e poi onestamente non ha nessuna preparazione sulle cose di cui parla quindi non so nemmeno perché lo prendono sul serio su Europa Antica lo ritengo il canale di storia antica più preparata in Italia semplicemente sa di quello che parla è una persona piacevolissima molto educata molto preparata vi consiglio assolutamente il suo canale io in generale sulla storia non mi fido molto di improvvisati o saccheggiatori di Wikipedia Escalate to Desk utilizzare testate tattiche per bloccare l'escalation tu che ne pensi? ma io penso che anche se i russi usassero una testata tattica in Ucraina l'Occidente non si farebbe coinvolgere perché il rischio di un'escalation è ancora più grande anche se utilizzano una testata tattica ma non credo che i russi arriveranno a questo perché il rischio è veramente veramente grosso beh Pineschi secondo me per quello che ho visto oggi in live mi sembra uno che ha vissuto talmente tanto in una zona di guerra che ormai non riesce più ad adattarsi a un pensiero civile tutto il discorso che faceva dell'educazione che sarebbe utile l'educazione militare del servizio di leva sembra un ragionamento da eserciti di massa del 1900 l'educazione non passa dalla Naya passa dalla scuola passa dai tuoi genitori l'esercito guarda caso quasi tutti i militari con cui ho parlato compreso Ivano vi diranno che la Naya è completamente inutile perché passavano la maggior parte del tempo letteralmente a grattarsi le palle era un mucchio di gente che non voleva stare lì non imparava nulla e poi tornava a casa invece un esercito di professionisti è quello che ti serve ma anche Wikipedia cioè Wikipedia stellina funziona così se c'è la fonte su Wikipedia vai a vedere qual è la fonte ma se tu apri una pagina di Wikipedia e vedi delle frasi scritte senza fonti non hanno nessun valore perché non sai chi le ha scritte quindi quello era il paradosso proprio di utilizzare Wikipedia senza fonti poi magari uno che ha anche un minimo di metodo va a vedere varie fonti fa un confronto perché comunque è sempre meglio non fidarsi solo di una fonte specie se si parla di esercito russo eccetera è meglio incrociare è meglio incrociare perché ci sono anche tanti storici che poi sono venuti fuori che scrivevano libri per la CIA o che erano stati nell'esercito tedesco e quindi avevano una ragione per scrivere bene della Wehrmacht e dare tutte le colpe alle SES insomma ci sono tante ragioni anche nella guerra fredda per pulire certe narrative in ottica anti-sovietica c'era il discorso di dover riarmare la Germania e far digerire ai paesi che avevano subito il tallone tedesco un riarmo tedesco in funzione antirussa quindi si decantava i generali tedeschi tutte le colpe erano di Hitler da lì nascono tantissimi miti che io ho debancato nella serie di video sui miti che sono basati su libri che vengono ristampati continuamente insomma qui mi chiedete cos'è che mi chiedete cosa ne penso di che ne pensi di Marco Cimino è un amico uno stimato collega quando parla di prima guerra mondiale io lo consiglio tantissimo su Gio Pizzi sono abbastanza critico perché un conto è quando fa i pezzi satirici su Pacciani il processo che mi sono divertito tanto anche io a seguirlo meno quando fa video su questa questione anche perché io onestamente l'ho beccato a quel video che lui ha fatto l'ultimo sulla guerra in realtà è praticamente preso e tradotto da un video in inglese ok basta che scrivete Russian Logistics in Ukraine e troverete praticamente lo prendete salvate la trascrizione del video in inglese lo mettete in italiano praticamente è il suo video gli ha preso anche lo stesso footage se tu prendi un video di qualcun altro sulla rete e ne prendi un 70% papale papale parola per parola beh quanto meno citalo non farla passare come farina del tuo sacco mi pare il minimo insomma cosa ne penso di Nova Lectio beh direi che scrivi Parabellum Nova Lectio il video su Ivan Grieco e direi che è tutto abbastanza esplicativo ne riparliamo quando magari non non li scrivono altri testi cosa ne penso di Boldrin io penso che Boldrin è una persona di un'estrema cultura che ha una grande anche grande diciamo carriera accademica io lo seguivo già dieci anni fa una cosa del genere però ogni tanto ha delle uscite molto prevaricatrici io glielo dico sempre quando tenta di fare di delegittimare l'interlocutore mi scade come ha avuto sempre delle interazioni abbastanza pacate io ho notato che lui tende a schiacciare il 90% dei suoi interlocutori ma quando ne becca uno competente ha tutto un altro tono quindi lo vedi subito dall'atteggiamento però non era così cioè io me lo ricordo molto più pacato molto più suave diciamo secondo me si è un po' inacidito col tempo diciamo può essere anche l'avere a che fare con Erfaina o cose del genere o discussioni abbastanza inutili insomma quanti anni ho? 39 beh direi che quello che dovevamo dire l'abbiamo l'abbiamo detto poi sta diventando una specie di recensione di altre personalità e canali biblioteca di Alessandria io ci collaboro Joel è una persona fantastica estremamente umile che si 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 deprezza molto anche ogni volta che parlo con lui no ma io lo faccio così per passione potrei farlo meglio vado a braccio in realtà si si butta giù da solo e quindi ti fa capire quanto quanto è umile diciamo conosco il canale Metatron assolutamente lo seguo lo trovo simpatico sul pezzo abbastanza serio usa usa tutta una serie di fonti poi gli piace il warhammer come a me quindi assolutamente assolutamente sì non è un discorso di preparazione spesso è un discorso di fonti di critica delle fonti utilizzo di fonti insomma se io vedo un canale che parla di un qualcosa beh vado a vedere se sotto utilizza delle fonti insomma a cosa ti appoggi a me i canali youtube che fanno giornalismo utilizzando pezzi giornalistici beh dammi il pezzo originale mi leggo quello insomma conosci termometro Geopoligio sì ma non lo seguo millennium 7 no io seguo militari aviation history cioè stick history lo conosco e ci parlo se vai sul sul video sul petrolio dell'asse alla storia di ardito d'esio se vedrai il primo commento stick è il mio è proprio sotto tick io tick lo seguo quando aveva 4.000 utenti infatti ce l'ho su skype quindi parlo sia con lui che con military history visualized se andate a vedere la live che ho fatto su cassino alcune delle grafiche che ho utilizzato mi sono state concesse da military history visualized cioè io se collaboro collaboro con degli storici storici insomma caccia preferito moderno mig 29 fulcrum della seconda guerra mondiale foc wolf 190 come mi ha ganciato grieco beh era nato dal fatto che umberto aveva fatto delle critiche su un video di nova lezio whatsapp economy pure io andai da whatsapp economy poi parlai con umberto e poi umberto mi portò da ivan grieco punto poi non abbiamo più fatto nulla perché loro parlano di notizie così del del giorno e invece ora è scoppiata questa guerra e quindi voleva parere di qualcuno che ci capisse e quindi ma non credo nemmeno che sia stata un'idea loro da quello che mi aveva detto umberto ci sono stati degli utenti che hanno scritto sotto il loro il loro canale ma perché non invitate qualcuno che ci capisce di queste cose nulla ci siamo scritti è partito così che origine ho mia madre è polacca io sono italiano italiano nato qui nell'82 quindi tutto qui dove puoi trovare il link per il server discord in alto a destra in alto a destra sul canale quando entri proprio nel canale in alto a destra ci sono i link no la M2 C2 è overrated diciamo cosa ne penso dei fratelli Gili beh sai se lavori alla Nato non è che puoi essere critico della Nato io vedevo come mal vivevano uno dei fratelli giri di discorso di Travaglio quando diceva che i valori della Nato sono che per entrare nella Nato tu devi avere dei valori che rispettano la democrazia e la libertà di stampa e Travaglio che è uno sempre che le piace andare a cercare diceva la Turchia infatti rispetta i valori democratici e di libertà di stampa e lì vedevi i fratelli Gili che collaborano con la Nato beh insofferenti perché è ovvio che l'essere nella Nato della Turchia stride fortemente con i valori della Nato ma da un punto di vista strategico è un paese fondamentale quindi ogni tanto anche l'Occidente per convenienza diciamo che qualche ci scordiamo insomma di queste cose Ivano come l'ho conosciuto l'ho conosciuto tramite Peter Ironborn fu intervistato da Peter Ironborn io gli dissi guarda molto interessante questo militare vorrei parlarci quindi piano piano ci siamo avvicinati abbiamo parlato su Discord e siamo andati a Breaking Italy io lo seguo rispetto molto shy il lavoro che fa meno quando parla di questioni come questa perché è palese che è costretto a parlare di questa questione pur non avendo una conoscenza ho seguito una sua live dove parlava e onestamente ha detto un bel po' di cavolate perché è palese che di geostrategia di questioni militari non ne sa io ho questo pensiero qui solo perché è il tema del momento non vuol dire che lo devi coprire cioè parliamoci chiaro io lo sto coprendo perché studio queste cose però se domani il tema del momento fosse che ne so il basket o qualcosa di politico non lo farei solo perché è il tema del momento e questo dovrebbero fare anche loro nel senso hanno avuto anni e anni dove si occupavano solo di temi del momento magari la volta che non è proprio quello che conosci magari anche evita anche per evitare di dare cattiva informazione conosco il podcast storia d'italia di marco cappelli sì l'ho seguito seguo anche quella del del museo e vari altri cosa ne penso dell'f35 non sono un esperto di f35 quindi che ti posso dire so quello che puoi riperire in rete come tutti quanti prima cosa che dovete individuare in un divulgatore è l'onestà intellettuale se non sa una cosa te lo dice non si occupa di politica geopolitica strategia filosofia storia matematica logica fisica biologia ti servirebbero 5 o 6 dottorati per occuparsi di così tante cose cioè i tutologi non esistono ecco punto se uno è un tutologo prima è un oragante secondo non ha assolutamente la preparazione che sta amminaltando quindi diffidato secondo te l'Italia la stampa è libera sulla carta sì in pratica no perché sono sono quasi tutti detenuti da poli di potere non industriali famoso esempio un giornale della fiat non scriverà mai male della fiat quindi sulla carta sì nella pratica no poi dipende molto dai giornalisti stessi che un giornalista all'interno di un giornale dove l'azionista di maggioranza è la fiat beh magari non scriverà un articolo su quanto è brutta l'ultima auto della fiat o cose del genere quindi si autocensurano a priori diciamo secondo me la Russia schiererà il t14 no ne hanno pochi e se finisse male non li venderebbero più sarebbe un danno d'immagine enorme cosa ne penso di Limes penso che Limes è un ottimo approfondimento geostrategico come è la rivista difesa però penso anche che a volte si appiattiscano sulle visioni occidentali molto infatti non è un caso che sia la rivista difesa sia Limes avevano toppato totalmente nel predire questa guerra perché quando ragioni da occidentale non studi il pensiero asiatico il pensiero russo o degli slavi ragioni pensando che loro ragionano come noi questo loro non lo fanno soprattutto i giapponesi i giapponesi cercano di uscire dal loro schema cognitivo porsi nelle scarpe dell'avversario e ragionare come fa l'avversario per cercare di predirne le mosse quindi su questo io ho visto molto appiattimento diciamo delle intelligenze occidentali sul leggere e poi quando succede qualcosa di inaspettato Putin è un pazzo ma per vent'anni ci hanno raccontato che era un maestro del KGB un serpente freddo e calcolatore quindi delle due cose l'una spesso usano una terminologia per quando non riescono a spiegare il loro errore di giudizio allora automaticamente deve essere qualcosa fuori dallo schema che loro potevano predire allora perché non per tirare acqua nel mio mulino perché io e qualche altro analista e guarda caso quelli un po' più calmi razionali e freddi che studiano anche cose di Europa dell'Est ci abbiamo azzeccato forse perché non era così difficile onestamente cioè non era una non è che siamo dei particolari geni cose del genere era abbastanza ovvio insomma forse non era ovvio per chi ormai è all'interno di un certo tipo di schema di ragionamento ti puoi specializzare io ti posso mettere in contatto con Giovanni Cecini Giovanni Cecini tiene dei corsi proprio specifici con l'archivio dello Stato Maggiore dell'Esercito su proprio storia militare puoi tenere proprio dei corsi storia contemporanea militare proprio militare da Napoleone in su più o meno poi per il resto tu scegli la traccia di storia e poi ti specializzi un po' per quello che vuoi ma un po' per per passione cioè non è che c'è una traccia vera e propria a meno che non vai a Modena vai a fare proprio storia militare militare ma non c'è molto in Italia non c'è una grande tradizione come ci può essere in Inghilterra in Inghilterra hanno una grande scuola proprio di studio di storia militare anche in America in Italia molto 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 meno sono dei corsi molto a lato molto laterale mi sento in concorrenza con Dario Fabri? no assolutamente no perché uno si deve sentire in concorrenza semmai in collaborazione non diretta su certe tesi lui magari ne sa di più di geostrategia io ne so più di storia e questioni militari cioè questo discorso di entrare sempre in antagonismo non è una gara nel senso anzi ci si completa vicendo tra divulgatori ci dovrebbe essere una cioè io lo dico sempre non dibattete per battere l'avversario per battere l'interlocutore dibattete per imparare nel 40k io ho Eldar Space Wolf nel fantasy ho Elfialti e Non Morti ma tanti c'è tipo 10.000 punti di Non Morti vabbè io ho cominciato negli anni 90 vabbè sono le 23.01 io direi che ho risposto anche a un sacco di cose oltre diciamo la lezione cina sulle dottrine spero a chi interessi di andare anche ad approfondire quei pdf che metterò sotto sono delle spunti di studio anche su certi su certi libri metterò anche i libri in descrizione per consigliarli la maggior parte li trovate all'interno della mia libreria tra l'altro se andate nel canale pdf su discord ho messo proprio pdf direttamente mentre li ripassavo quindi ovviamente parlare di una dottrina se ne potrebbe parlare per giorni e giorni si parla di centinaia di pagine un po' più complicati ho cercato di fare un discorso riassuntivo per capire come si adatti molto a quello che è successo e ci sia stato uno snap che secondo me loro non avevano previsto fra il terzo e il quarto passaggio quindi ci vediamo nei prossimi giorni ora vedo se c'è Ivano se non c'è Ivano se invito Giovanni Cicini o qualcun altro se lo faccio da solo aggiornerò la mappa ci sto lavorando perché sta succedendo poco a livello di di cambiamenti quindi la faremo o sabato o domenica quindi buonanotte e alla prossima sempre qui su Parabello grazie a tutti